Quattro mesi di contratto per provare a portare il Catania in serie B. Mario Petrone, nuovo allenatore rossazzurro, nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento ai piedi dell'Etna. Nel mirino del Catania, già in estate, Petrone, svincolatosi dall'Ascoli appena qualche settimana fa, si è detto pronto alla difficile sfida che lo attende. Guardare oggi la classifica, le eventuali posizioni, secondo me non ci fa focalizzare sull'obiettivo primario che è quello di ritornare a vincere domenica e sabato in una partita importante dopo la sconfitta di Agregas. Quindi il mio lavoro oggi è quello di focalizzare tutte le risorse per ottenere il massimo risultato domenica dopo domenica. Fama da sergente di ferro, Petrone proverà a trasmettere questo aspetto del suo carattere alla squadra ma nell'immediato punterà a fare ritrovare l'entusiasmo a tutto il gruppo rossazzurro. Quello che è importante per me oggi è dare proprio un segnale da punto di vista mentale di autostima e di sfruttare le potenzialità che ha questo organico. Altrimenti non si può sperare di finire un campionato in crescente e di affrontare poi eventualmente i play-off nei migliori dei modi se non si creano queste basi. Pietro Lomonaco è invece tornato sul divorzio da Rigoli, doloroso ma allo stesso tempo necessario, dopo la prestazione di domenica con l'Agregas. Una delle peggiori degli ultimi dieci anni, secondo la Dietneo, che ha richiamato i giocatori ad un'assunzione di responsabilità. Abbiamo voluto levare l'ultimo alibi, qualora ce ne fosse ancora, ai calciatori. In campo vanno loro. Loro sono un organico importante e devono giocare da organico importante. Chiaramente prestazioni come quelle di domenica vorremmo non vederle più. e prestazioni come quelle di domenica stento a dare delle colpe al tecnico. L'obiettivo finale, ribadisce Lomonaco, è il sesto posto. Vogliamo arrivare ai play-off e vogliamo arrivarci possibilmente per giocarceli e non per partecipare solamente. La Rosa è a posto così, ha chiusato Lomonaco, che ha escluso nuovi arrivi dagli svincolati. Grazie per la notizia.